La volo maschile serie A2, preziosa vittoria della basi grafiche Geosat Lago Negro in trasferta a Cantù. I Lucani consolidano la prima posizione nella pool salvezza. Antonio Coronato. La salvezza del Lago Negro si costruisce lontano dal pala Alberti. Il sestetto lucano soffre nel palazzetto di Lauria ma spazza via ogni timore di scivolare indietro nella pool salvezza con preziose vittorie fuori casa. E' successo a Castellanagrotte nove giorni fa. E' successo anche ieri a Cantù dove i biancorossi, in divisa nera da trasferta, hanno regolato per 3-7-1 i Lombardi. E' decisivo il carattere dei Lucani, ritrovato dopo la brutta sconfitta con il Montecchio di mercoledì scorso, carattere che consente di gestire la tensione del primo set, vissuto punto a punto fino allo sprint finale degli ospiti che lo chiudono con un ace di Galabinov sul 25-18. Il bulgaro, che a fine gara totalizzerà 23 vincenti e grande protagonista anche nel secondo parziale, non a caso è suo il muro che consente al Lago Negro di andare sul 2-0, 25-17, senza troppi affanni anche a causa dei tanti errori dei brianzoli. Ma Cantù è squadra rognosa, si ricompatta e dopo un'alta lena di emozioni riesce a trascinare il terzo parziale ai vantaggi. La difesa lucana, filli impeccabile, dà segnali di cedimento e cede anche il set, 28-26. Lago Negro però si rialza subito, archivia il piccolo passo falso e riprende a correre, raggiunge un buon vantaggio, più 7, già a metà della quarta frazione. Il margine è come una coperta rassicurante e permette ai lucani di gestire la tensione che si scioglie quando il muro decisivo di Capitan Giosa consente alla base grafiche di condurre in porto in 4-7 l'ultimo vinto 25-20, un successo netto e determinante perché aumenta il vantaggio in classifica su Brescia, seconda forza della Pulsalvezza e soprattutto su Ortona che occupa la terza posizione, quella che non garantirebbe la permanenza automatica in Serie A2, posizione oggi distante ben 7 punti.